La Tuscar batte la Forti Sarezzo 1-0 e mantiene il posto in seconda categoria. La squadra di La Torraga si giocherà tutto nel prossimo turno contro la Capresana. Pronti via e al terzo minuto la gara si decide subito. Calcio di rigore per la Tuscar per un fallo di Angioli ai danni di Chiatti. Calcio di rigore dal dischetto si presenta Pastore che trasforma. È il vantaggio per la Tuscar. Le occasioni capitano da una parte e dall'altra ma il risultato non cambierà più. Una bella gara che entrambe le formazioni volevano e potevano vincere ha vinto la Tuscar che ha mantenuto la calma controllando con grande autorrivolezza l'incontro che le consente di mantenere la seconda categoria. Esami di riparazione per la Fortis che con grande carattere ha spiegato sino alla fine ma priva di due elementi importanti non ha avuto la forza necessaria per spingere sull'acceleratore. Ancora un turno per sperare nella permanenza in seconda.